Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci per la rassegna stampa di oggi, giovedì 2 settembre. Insomma, anche oggi i titoli giornali sono un po' diversificati. Il Correa Sera titola sul vaccino per i bimbi, via libera al vaccino per i bimbi, la ripresa locomotiva Italia invece Repubblica a proposito dei dati dell'Ox che vedono l'Italia messa molto bene sulla ripresa, l'Europa valuti l'obbligo vaccinale invece il titolo della stampa, il domani svia completamente si occupa degli affari sul Covid del fedelissimo Giorgetti, l'ex deputato Gianluca Pini, invece ancora il vaccino i bimbi per il giornale, le bollette, il caro bollette per il tempo, la canna del gas, poi sul Quirinale dedica l'apertura libero con la proposizione di una petizione in contrasto a quella di Travaglio e poi ancora invece il riformista sulla riforma del CSM, il dubbio sulla riforma o pseudo riforma del gasto allo stativo, il caro prezzi per Natale invece il messaggero, Natale shopping con stangata, insomma vedete che cartelle fiscali e quello del sole 24 ore, ognuno va un po' per conto suo e noi cercheremo di seguire come al solito partendo dal Covid e come al solito partendo dalla situazione, qui ci sono da segnalare due cose, intanto il Corriere della Sera che ci dice che oltre 100 vittime come a giugno, terapie intensive più 17% di pazienti non immunizzati, in diminuzione invece i vaccinati ricoverati sono meno del 10%, questo è Paola Caruso sul Corriere della Sera, ma va segnalata anche la stampa a pagina 9 che mette in evidenza qual è il rischio per le rianimazioni che crescono, l'emergenza e rianimazione, in un giorno 103 morti crescono i non vaccinati in terapia intensiva, Speranza dice più controlli su chi arriva all'estero, sono 15.085 nuovi contagiati ieri su 573.755 tamponi con il tasso di positività che è salito dall'1.08 al 2.6%, sono 686 pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva, più 3 rispetto a martedì e come è detto del 17% l'aumento dei novax in rianimazione, mentre gli immunizzati scendono del 10%. E poi però sempre sulla stampa pagina 11 si parla dei controlli, dei tracciamenti, il virus che sfugge è il dossier di Paolo Russo, la disfatta del tracciamento in 11 mesi spariti 3.000 addetti alla prevenzione, carenze dovute alla cattiva gestione, i 2.000 assunti l'anno scorso destinati ad altri servizi. Questa è la denuncia che fa la stampa. C'è il capitolo vaccini che come abbiamo visto su Corea Sera è particolarmente relativo ai bambini, ma non solo, perché si mette in evidenza quello che sta accadendo in Europa. L'UE considera il vaccino obbligatorio, è Van der Leyen che evita i 22 a discuterne. La Germania è favorevole, gli usa pronte nuove restrizioni sui viaggi, però a proposito di questa possibilità che invoca la Van der Leyen, cioè dei vaccini obbligatori, Giuseppe Alberto Facci ci dice che a Palazzo Chigi, qual è la reazione di Palazzo Chigi, dove vince la prudenza aspettando altri dati. Voglio segnalarvi su questo anche un'intervista che il messaggero fa a pagina 6 con Vaia, Francesco Vaia che è il direttore dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive dello Spallanzani, che dice è meglio ripetere il vaccino ogni anno ma passeremo un Natale più sereno. Dice che Vaia che l'indice RT si sta abbassando, prima o poi i contagi diminuiranno. E poi ancora che la Omicron, che è la variante, può soppiantare la Delta ma non sembra in grado di superare le protezioni di chi è immunizzato. Ora sapete che su questo, l'abbiamo visto ieri in modo plastico, ci sono posizioni diverse, molto diverse, alcuni addirittura dicono che ci sono speculazioni su questa variante Omicron, ne parleremo sicuramente ancora in futuro. Dicevo, la Corriera Sera dedica però le pagine successive alla prima, oltre al titolo di apertura, ai bambini, il sì al vaccino da 5 a 11 anni, nessun segnale di allerta. Scrive Adriana Rogroscino sulla Corriera a pagina 2, la decisione dell'AIFA, alta efficacia, riduzione del 90,7% delle infezioni e il sottosegretario Costa dice sarà una scelta volontaria e non ci sarà Green Pass. E poi Margherita De Back intervista a Bruno Dallapiccola, che è direttore scientifico dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù e che dice è un prodotto sicuro, farà bene ai bambini e a tutta la società, poi toccherà ai più piccoli, insomma già si pensa di estendere ulteriormente il vaccino, questo per quanto riguarda i bambini. Però sul tema dei vaccini, voi ricorderete che ieri abbiamo affrontato con alcuni editorialisti il tema del variante Omicron che si forma soprattutto nei paesi poveri dove i vaccini sono molto pochi e in questo senso voglio segnalarvi un editoriale di Goffredo Buccini sulla prima pagina del Corriere della Sera, Equivoci Europei, che poi però riprende e continua, e lì andiamo a vedere, a pagina 30 e dice l'ultima variante ha enfatizzato, scrive Buccini, una realtà già raccontata dai numeri. Secondo l'AMS solo il 6% della popolazione africana è vaccinato, un decimo rispetto alla media europea e statunitense. In nazioni come il Burundi il tasso di vaccinazione è lo 0,0025%. Il programma COVAX che avrebbe dovuto garantire 2 miliardi di dosi ai 145 paesi più bisognosi è per ora una nobile climera. L'Africa ospita il 17% della popolazione mondiale ma finora ha avuto accesso solo al 3% delle fiere globali. La conseguenza di questo squilibrio è spiegata dai virologi e immunologi di ogni dove. Se non eradicheremo il virus anche dai paesi poveri, quello varierà e varierà ancora, ripresentandosi ogni volta al nostro uscio dorato sotto mutate forse più micidiali spoglie. Il target per fermarlo è posto dagli scienziati a 4 miliardi e 8 milioni di immunizzati nel mondo. Il condirettore di COVAX ammò Niva già prima di Omicron che senza sopprimere il virus globalmente non riprenderanno davvero commerci e spostamenti. In questo fine autunno di nuovi lockdown appare buon profeta. Tuttavia l'Africa, scrive Buccini, ci mette davanti a un triste paradosso. Se stasera Europa e Nord America le mandassero 2 miliardi e mezzo di dosi, doppia vaccinazione per 1 miliardo e 300 milioni di africani, è plausibile che parte di esse finirebbe in una discarica, perché i vaccini sono solo la faccia più vistosa dei problemi. L'altra è l'assenza di strumenti, conoscenze, trasporti, personale idoneo, insomma tutto l'apparato per attivare il quale, persino in un paese ricco e avanzato quale l'Italia, è stato necessario schierare un esperto di logistica come il generale Figliuolo. Un punto colto da Roberto Speranza al G7 dei Ministri della Salute. Non basta donare dosi, dobbiamo supportare concretamente chi non ha servizi sanitari strutturati e capillari come i nostri. Occorre essere certi che i vaccini donati vengano effettivamente somministrati e per farlo nei paesi più fragili ci sarà bisogno del ruolo di coordinamento di ONU e Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi prosegue questo lungo articolo di Cuccini che conclude così. Che fare dunque? Sospendere l'efficacia dei brevetti come vagheggia Biden? Si rischia di punire la ricerca privata e comunque occorre know-how e frenano gli esperti. Il WTO ha peraltro appena cancellato la sessione per discutere, rinviando la sine di e proprio a causa di Omicron, che è la variante. Ci sono paure che hanno un risvolto beffardo. Nella conclamata vaghezza degli organismi internazionali, su quali Speranza appare un po' troppo ottimista, la risposta potrà forse venire da missioni europee rafforzate dall'Unione Africana, che accompagnano i vaccini con medici, infermieri, cooperanti, soldati nelle contrade più sperdute per convincere, assistere e immunizzare. Un'impresa ardua e visionaria che qualche mummia novecentesca bollerà magari di colonialismo sanitario, ma che in una barca globalizzata dove tutti insieme ci salviamo o affondiamo si chiama buonsenso solitale. Così Buccini sul Corriere della Sera a proposito delle varianti che si formano è perché nei paesi più poveri non ci stanno i vaccini. C'è un tema specifico che è quello dei tamponi che affronta il Corriere della Sera a pagina 5 perché c'è una polemica rispetto alle scuole. Tamponi agli studenti e controlli il piano anti-DAD con l'esercito e in campo anche i laboratori mobili della difesa per fare i test entro 24 o 48 ore dalla scoperta di un caso. Se vediamo lo stesso argomento è trattato dalla Repubblica a pagina 8, no scusate dalla stampa a pagina 10. I fronti di Figliuolo è l'articolo che viene pubblicato sulla pagina 10 della stampa. Dopo il dietrofonte sulle scuole e la DAD il protocollo non convince i ministeri e regioni, i presidi scaricano le asole commissariate. Spesso abbiamo fatto il lavoro al posto loro. Peraltro qui sulla stampa si dà pura notizia, c'è un retroscena di Lario Lombardo, le frustrazioni dentro il CTS, le accuse a Locatelli e Draghi. Il confronto è solo tra di loro. La doppio circolare, la rabbia dei tecnici del Ministero della Salute, un errore sulle elezioni in presenza serviva a maggiore prudenza perché sapete che Gravi ha sconfessato le decisioni che avevano preso di buon accordo i ministeri della salute e della pubblica istruzione con il parere del CTS. Va bene, questo è per quanto riguarda la scuola. Abbiamo prima di chiudere questo il capitolo Novax che è oggi soprattutto centrato sull'Europa. Abbiamo visto la Wanderlein che propone i vaccini, ma pagina 9 del Corriere della Sera dall'Austria, si curava da solo con la candeggina, morto il campione dei negazionisti. Biaxix, ricoverato in gravi condizioni, aveva rifiutato le terapie. Damiano invece è stato salvato in ospedale. Poi si parla anche di quello che è successo in Veneto, l'ex leader Novax, sopravvissuta alla terapia intensiva, e che si pente e dice seguite la scienza. E poi c'è la notizia di un'aggressione che c'è stata in Liguria. L'assessora è aggredita da due ragazzi in treno senza mascherina, le vittime sono loro. Il vagone del treno era pieno, però nessuno è intervenuto. Mi sono sentita molto sola perché gli ha detto di mettere la mascherina e quelli l'hanno aggredita. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Repubblica, pagina 8, c'è una cosa sull'Europa. In Europa uno su tre non è vaccinato, von der Leyen è l'ora dell'obbligo e fa riferimento ovviamente ai Novax. La Repubblica porta anche a pagina forse 14. Troppi Novax in tv, quei volti Mediaset che irritano il Cavaliere. I programmi di Giordano e del Debbio sono spesi nel periodo del Super Green Pass e dell'avvicinamento alle elezioni per il Colle. Questo l'abbiamo già visto ieri, ma lo ribadisce oggi Repubblica e poi avventa arriva l'Italvo. Lasciamo, abbandoniamo il tema Covid, andiamo alle notizie di economia. Io partirei con il tema dell'Ocse. Ripresa, locomotiva Italia, dice la Repubblica in prima pagina. Un enorme più 6,3% è nella pagina 2, nel titolo di apertura della pagina 2 di Repubblica. Il rimbarzo dell'Italia ora cresce più veloce di tutti i paesi avanzati. L'Ocse Lima ha al 5,6% le stime di sviluppo dell'economia globale, ma correggia il rialzo quelle del nostro paese, più 6,3% quest'anno e più 4,6% del 2022. Le incognite, Omicron e inflazione. E questo è un po' quello che abbiamo visto anche nei giorni scorsi. Ci sta poi la pagina 3 di Repubblica che parla delle uci ed ombra della ripartenza, industria che traina e consumi risalita, ma il lavoro resta precario. Valentina Conte sulla Repubblica. A questo punto rimarrei sulla Repubblica perché c'è a pagina 28 un commento molto interessante di Francesco Guerra che dice che la sfida è restare in testa. E dice che come un caratterista che ottiene la parte del protagonista in un film di Hollywood, un portiere che segna il gol della vittoria in una partita importante, l'Italia si ritrova in una insolita ma felice posizione, quella di locomotiva economica del mondo. A dirlo una fonte non sospetta è l'Ocse che rubrupa e studia i più grandi paesi del gloppo. E qui si fa riferimento al fatto che l'Italia sta messa meglio rispetto a Stati Uniti e zona euro e diciamo è seconda solo a Cina e India che sappiamo hanno una forza di ripresa che è ben superiore. E scrive tra l'altro Francesco Guerrera. La tentazione sarebbe quella di esultare magari sotto il naso straniero di chi ha sempre pensato all'Italia come un paese dai balocchi per turisti, artisti e buongustai, incapace di far funzionare la propria economia in maniera adulta. Ma forse vale la pena analizzare questo boom e scoprire se è possibile evitare che sia un fuoco di paglia, uno dei tanti tentativi falliti di riformare il paese e metterlo su una base economica solida, duratura e resistente. Alcuni motivi di questa esplosione di crescita, nonostante l'enorme costo umano, mentale e finanziario della pandemia, sono ben noti. Si parla degli aiuti governativi, sia diretti che attraverso una politica fiscale, molto accomodante. Poi si parla anche che negli ultimi mesi la nostra industria è storicamente volta all'esport e ha ricevuto un'ulteriore spinta di una congiuntura internazionale in cui l'euro ha perso terreno nei confronti del dollaro. Poi si parla della fiducia delle aziende nel futuro, si parla anche dell'ottimismo dei consumatori e conclude così Guerrera. E proprio dai consumatori dipende il futuro del Miracolo Italia. Le famiglie singole italiane, come in altri paesi, hanno passato la pandemia a risparmiare soldi. Se, come l'Ox prevede, incominceranno a spendere quei gruzzoletti accumulati negli anni bui del Covid, l'effetto volano, uniti ai miliardi europei del recovery fund, potrebbe sostenere la ripresa. Il dato più preoccupante è che la fiducia dei consumatori e la loro voglia di spendere dipende dalle prospettive occupazionali, il vero tallone d'Achille che è l'economia italiana. Il fatto che, nonostante questa crescita eccezionale, il tasso di disoccupazione rimanga ancora al di sopra del 9%, dimostra che l'imperativo per governo, aziende e mercati finanziari è e sarà il mercato del lavoro. Qui gli economisti parigini non hanno ricette concrete, solo vaghe parole su riforme strutturali e eliminazione di disincentivi fiscali, politiche che tentiamo da anni, ma con scarso successo. Il PNRR del governo, però, è un buon inizio, soprattutto per chi mira a creare un clima più amico agli investimenti. Il riconoscimento dell'Ocse non è un traguardo, ma una sfida a rigenerare la nostra economia da una posizione di forza, con particolare attenzione all'occupazione. La domanda da farsi è questa. Che fine fa una locomotiva se nessuno la guida? Ecco, domanda della Repubblica che ci proietta tra poco sul tema guinale, partiti, eccetera. Ma prima vediamo la manovra. Quando parlo di manovra, qui mettiamo insieme manovra, le delega fiscali, insomma tutti i provvedimenti economici più importanti che sono all'ordine del giorno del Parlamento. E allora vediamo la Repubblica che sul decreto del fisco, che va verso l'approvazione, parla di assegno per i genitori separati, IMU, stretta sulle esenzioni, a Rosario Amato che ne scrive, nel maxi provvedimento allungati termini per pagare le cartelle, limiti al lavoro somministrato, ripartono gli incontri tra Draghi e le parti sociali sulla manovra. Oggi il Premier vede i sindacati, questo ci dice la Repubblica a pagina 4, ma a proposito dei sindacati, segnalo invece il Corriere della Sera a pagina 11, con Landini che viene intervistato da Enrico Marro e dice basta chiamarci a cose già decise, confronto vero o sarà rottura. Landini a liquide, vantaggi per i ricchi. Ora, queste parole di Landini sembrano i penultimatum, perché più di una volta minaccia, scioperi, cose e invece, poi gli altri sindacati non sono d'accordo e tutto va in fumo, però insomma intanto è questo quello che dice. E poi, se volete, sul Corriere della Sera a pagina 10 c'è l'analisi di Galluzzo, il pressing sui partiti, tetto a 500 emendamenti e più coesione nazionale, il filo rosso che collega la manovra alla partita del Colle, questo sul Corriere della Sera. Sulla stampa, le cose sono nelle pagine 2 e 3, l'incubo bolletta, ecco, questo è quello di cui parla la stampa, allarme di nomisma per il gas e in arrivo un altro rialzo del 50%, Draghi cerca fondi per rimediare e incontra i sindacati sulle pensioni, questo l'abbiamo visto. Anche qui si parla di alcuni emendamenti che sono, nei tanti emendamenti del Senato, ostri che pappa reale, battesimi al Senato e assalto alla dirigenza. Ricordiamo che questo assalto alla dirigenza si circostiva a 600 milioni disponibili per il Parlamento sui 20 miliardi di manovra, quindi, insomma, sono anche un po' forzati, diciamo la verità, e poi si vanno sempre a scegliere le cose più piccaminose che ci sono tra gli emendamenti, ma la stragrande maggioranza magari sono emendamenti che riguardano cose anche più di rilievo, insomma. Il retroscena di Alessandro Barbera, pagina 3 della stampa, e 4 miliardi per bloccare i rincari, spunta il fondo per le imprese in crisi. La strategia del Premier, costretta a stanziare 7 miliardi, marzo sarà decisivo per capire se l'emergenza è passata. La grande corsa dei prezzi dell'energia rischia di rendere invisibili Italia, le alipote IRPEF che arriveranno nel 2022. E questo è l'argomento che abbiamo visto ieri in più di un articolo sui giornali a proposito della inflazione. Vabbè, vi ho detto, il tempo la mette così, alla camera del gas, è il titolo di apertura. Dopo quell'inizio dell'autunno, arriva un da gennaio, una nuova maxi aumento di tutte le bollette per l'energia. Altra stangata su luce e gas, Filippo Caleri a pagina 3, nome smallancia l'allarme, la bolletta del metano su del 50%, fino a più 25% per l'elettricità. Quindi il caro bollette è il pezzo di manovra di cui si occupa il tempo. Il Sole 24 Ore mette insieme le due cose nel titolo di prima pagina. Cartelle fiscali stretta sui ricorsi, atteso oggi il Senato, stop all'impugnabilità della notifica del ruolo delle cartelle, poi nuovi controlli, a chi cambia il 7.30 precompilato, ridotte le esenzioni IVA, I no profit. Questo per quanto riguarda il fisco. Per quanto riguarda la manovra, il governo valuta un taglio, una tantum dei contributi per il 2022, tra le modifiche allo studio del governo per la manovra, spunta l'ipotesi di un taglio una tantum dei contributi nel 2022. Intanto l'esame, e vabbè questo è l'esame del decreto fiscale, della delega fiscale, l'abbiamo già visto. Questo il Sole 24 Ore, che peraltro vi segnalo a pagina 7, intervista proprio per queste questioni, il Presidente della Commissione Finanze di Italia Viva, Luigi Marattine, che dice, iter delicato, ma lasciamo tempo ai decreti. Dice, chi critica l'attenzione ai redditi da 35 a 55 mila euro perché ricchi si faccia un giro nel mondo reale. Ecco, dice, sul taglio IRPEF in manovra, l'accordo si può rivedere, è fondata la critica sindacale di scarsa attenzione ai redditi bassi, e dice Marattine, i 18 milioni di italiani con reddito fisso a 15 mila euro pagano in media di tasse il 2,4% del reddito, oltre a essere probabilmente i principali beneficiari dei 6 miliardi annui aggiuntivi dell'assegno unico, e la loro aliquota media effettiva scenderà ancora con il potenziamento delle detrazioni. I 3 milioni e mezzo con redditi da 35 a 55 mila euro hanno un'aliquota media effettiva quasi 10 volte superiore e avranno benefici un po' superiore alla media, ma sono coloro a cui negli ultimi anni nessuno ha prestato attenzione e se c'è qualcuno che davvero li considera ricchi da punire forse dovrebbe farsi un giro nel mondo reale. Questo è Marattine sul Sole 24 Ore. Chiudiamo anche questo capitolo, passiamo al capitolo quinale. E qui, amici miei, ci stanno commenti, cose, ci sta di tutto. Cominciamo a Corriere della Sera. Pagina 12, Colle, la nuova strategia di Letta dopo i dubbi sulla tenuta dei 5 stelle. Ecco perché il segretario del PD ha parlato della necessità di una maggioranza larga. È Maria D'Aresanelli che scrive questo retroscena su Corriere della Sera, che poi a pagina 13 fa riferimento a quelli che sono i nomi che sono usciti diciamo in questo periodo dice di Draghi dice l'obbligo di un patto per blindare tutto e quindi diciamo un 80% di possibilità per Draghi poi si dà un 65% di possibilità a Casini che è l'identikit dell'ex DG per il quarto scrutinio un 50% alla cartabbia il giurista e l'altro tabù al vertice da rompere cioè quello delle donne e poi Berlusconi un 35% la corsa difficile e gli elettori da sedurre e poi il 35% anche a Paola Severino l'ostacolo centrodestra sui consensi in aula e per quanto riguarda Giuliana Amato c'è un 55% di possibilità la riserva e gli scenari di un breve mandato cioè fare Amato un po' come quello che qualcuno dice di fare su Mattarella un impegno a dimettersi dopo un anno in maniera che poi possa andare Draghi dopo che ha concluso nel 2023 il PNRR e le altre cose vabbè questi sono scenari ma come sapete siamo lontani ancora nonostante tutto dal momento cruciale quindi queste cose si capiranno negli ultimi giorni la stampa pagina 14 parla di Conte che chiama Salvini per il Quirinale e poi vede Di Maio per la tregua del momento 5 stelle e va bene la telefonata dell'ex premier alleghista discutiamo su un accordo il faccia a faccia ha tenuto segreto con il ministro degli esteri guido le trattative insomma questo è quello che ci dice la stampa a proposito del Quirinale c'è da segnalare il giornale a pagina 6 e in prima pagina che trova un testimonial sicuramente non berlusconiano e neanche vicino a Forza Italia contro però le cose che ha fatto ieri Travaglio la copertina voi sapete non lo compro quindi però immagino che avete letto tutto ed è Luciano Violante che viene intervistato da Edoardo Sirignano a pagina 6 e dice Berlusconi è candidabile offensivo e volgare l'attacco di Travaglio l'ex presidente della Camera dice chi ha più di 50 anni può farsi avanti poi decide l'aula e dice sul fatto che è stato inutilmente aggressivo sbagliato usare questi toni nella lotta politica poi parla anche di altre cose in particolare del referendum dice possono avere successo la benzina sul fuoco da alcune toghe va bene questo è Violante che peraltro come ricorderete col quale abbiamo avuto insieme a Nordio e a Verderami a Barbano una bella conversazione che se volete trovate anche nei podcast di Italia Viva o addirittura nelle pagine social mie ma beh ma questo è un fatto vaginale il tempo anche sul Quirinale pagina 8 Silvio fa il tagliando per il colle il soggiorno di Berlusconi in Beauty Farm per rimettersi a nuovo e respingere i dubbi sulla salute vabbè ma questo Silvio ci ha abituato ad andare nel Beauty Farm quando poi deve fare delle operazioni particolarmente importanti Libero eccolo qua pagina 1 petizione di Libero a chi vuole rubarci il Quirinale il fatto lancia la campagna per fermare la candidatura di Berlusconi al colle ma il centrodestra ha diritto di stare in corsa con chi gli pare firma anche tu perché appunto il fatto quotidiano ha lanciato una petizione e qui c'è la contropedizione di Libero Elisa Calessi a pagina 3 di Libero dice fatto e giudici assalto a Silvio fuoco di sbarramento sul cavaliere al Quirinale il giornale Travaglio insulta Berlusconi la sua candidatura Rubiter no del tribunale all'assoluzione delle oggettine così vede l'intreccio con le vicende dei giudiziari di Berlusconi la Calessi sull'Ipero poi c'è una divertente intervista ad un personaggio che per il quale portiamo rispetto perché è comunque un'istituzione a qualche locale che è Matteo Ricci del Partito Democratico che però non credo che abbia fatto come dire un particolare piacere al suo segretario Letta perché Ricci viene intervistato e nel titolo del dubbio con Draghi al Colle il voto anticipato non può essere escluso ecco diciamo che Letta si è esperticato fino a ieri per dire che invece no non va escluso il voto anticipato mi pare se non ricordo male salvo che non sia Berlusconi o comunque che non ci sia un accordo di maggioranza però insomma Ricci la mette un po' più spinta bene passiamo ai ah no c'è da segnalare ancora al foglio Nannicini che è un mio amico è un riformista una persona con cui ha fatto un sacco di battaglie che oggi però sa poter risparmiare intervistato o comunque colloquio con Roberto non so chi del foglio ma insomma Nannicini PD la soluzione è il premier al Quirinale a Chigi può sostituirlo Letta ora si potrebbero usare varie cose a volte ritornano vabbè insomma lasciamo perdere andiamo agli editoriali qui comincerei con quello più politico mi pare che è quello di Repubblica di Stefano Cappellini a pagina 29 un nome condiviso per il Quirinale scrive tra l'altro Cappellini è la prima volta nella storia della Repubblica in cui uno dei candidati più accreditati al Quirinale è il presidente del Consiglio in carica secondare il suo legittimo desiderio di trasferirsi a Colle significa rischiare di precipitare il paese in un pauroso vuoto di potere vedete che questa è anche la linea di Folli quindi evidentemente questa è la linea di Repubblica perché ormai mi pare che tutti i commentatori sono orientati sulla stessa linea d'altra parte scrive Cappellini chiedergli di restare a Palazzo Chigi come hanno fatto negli ultimi giorni quasi tutti dire delle forze politiche di maggioranza significa però farsi carico di trovare una soluzione all'altezza e condivisa da tutte le forze che concorrono al governo perché a Draghi non si può chiedere al contempo di rinunciare alle elezioni al colle e continuare a governare per ancora un anno con una maggioranza già malferma di suo e per giunta squassata da un blitz presidenziale della sinistra contro la destra o viceversa quei partiti che hanno messo la stabilità in cima alle priorità per il 22 devono muoversi coerentemente quindi al netto delle fumisterie tattiche anche qui le strade sono due o un appello a B. Partinson che convinca Mattarella a restare in carica in nome di una emergenza non ancora superata dico io versione folli o l'individuazione di un nome votabile da Conte da Letta da Di Maio da Renzi da Berlusconi da Salvini e dagli altri piccoli azionisti della maggioranza conclude così Cappellini un conto è un'operazione di sistema che porti al bis con il consenso generale che richiede altro a evocarlo per nascondere l'incapacità di trovare un accordo condiviso su un nome operazione che richiede intelligenza pazienza coraggio tre qualità non diffusissime nel nostro panorama politico eppure è qui che si gioca la credibilità dei partiti qui che possono dimostrare di potersi presentare al voto delle prossime politiche dichiarando chiusa la fase dell'unità nazionale riaprendo quella della normale alternanza come deve accadere in una democrazia sana pensare di lucrare sulle difficoltà che ciascuno dei due schieramenti ha al suo interno sarebbe una scelta miope perché un terremoto che rende il paese acefalo o instabile condanna chi vincerà le prossime elezioni a governare su macerie che né centrodestra né centrosinistra tantomeno terzi improvvisati poli può pensare di affrontare con le sue sole forze il rischio è che i partiti si consegnino da soli allo stato di eccezione all'ipoteca tecnocratica al contrario un finale ordinato dalla legislatura capace di archiviare con successo le due grandi sfide in corso la lotta alla pandemia e la spesa dei fondi del PNRR e magari di introdurre modifiche necessarie del sistema istituzionale permetterà ai partiti di riprendere quella sovranità della quale si sentono parzialmente defraudati non ci sono scappatoie non ci sono scorciatoie serve la politica quella vera per i partiti è la grande occasione sul Quirinale si tratta se perdonate la metafora banale di fare un passo indietro oggi per farne due avanti domani questo è Cappellini abbiamo poi anche il nostro amico della segna stampa Ignazzi che sul domani si pronuncia anche lui sul tema possibile della proroga di Mattarella la pandemia non basta per giustificare le proroghe il tandem Mattarella-Draghi e scrive tra l'altro lasciare in campo il team Mattarella-Draghi esattamente il contrario a quello che ci vorrebbe e scrive va cercato un nuovo assetto sia per lo scenario domestico che per quello internazionale all'interno va garantito che il Colle sia presidiato nei prossimi lunghi sette anni quando vi saranno almeno due elezioni politiche referendum e richieste di modifiche dei rapporti Stato-Regioni visto che giacciono finora in evase quelle di autonomia differenziata delle regioni del nord da una personalità autorevole e di sicura affidabilità democratica questo passaggio di Ignazzi potrebbe essere un articolo del foglio una personalità che sappia tenere a freno eventuali pulsioni populiste e antisistemiche che circolano ancora a dispetto della normalizzazione grillina non sappiamo cosa farà quel 15-20% di Novax dichiarati o sommersi inoltre è disponibile avere a Quirinale una personalità che faccia da scudo ai ritorni di fiamma dei paradini nord-europei del rigore finanziario quando dovremo cominciare a restituire il debito accumulato solo una figura di questo genere dietro la quale si staglia inevitabilmente quella di Mario Draghi assicura un futuro un futuro più governato mentre una personalità di minor lievo i partiti possono imporre turbolenze politiche di vario genere fino a distorsioni sistemiche e i mercati rigoristi avere la via spianata questo non accadrebbe di fronte chi attualmente ma solo per un anno e mezzo ancora siede a Palazzo Chigi per mettere in sicurezza il sistema e assicurare di stabilità nei prossimi anni va insediato al colle chi offre le più solide credenziali internazionali quindi domani si schiera sostanzialmente con Ignazzi si schiera sostanzialmente per Draghi al colle ma Minzolini affronta il tema di Letta che dice sì ci vuole un accordo largo ma adesso vedremo Minzolini dice sostanzialmente lo devo scegliere io lo dobbiamo scegliere noi però chi eventualmente fosse un personaggio che possa andare bene al centro-destra della serie se c'è Berlusconi si va a elezioni e dice Minzolini già una crisi legata ad una mancata intesa tra Letta Salvini, Berlusconi Conte e Renzi per fare solo alcuni esempi sulla scelta del nuovo capo dello Stato sarebbe una decisione davvero ardua a spiegare agli italiani anche perché il capo dello Stato non è il garante della maggioranza di governo ma del Parlamento quindi collegare la sua elezione alla maggioranza di governo è addirittura un errore sul piano formale ecco perché a ben guardare il ragionamento del segretario del PD più che logico è strumentale nasconde il desiderio di accampare una sorta di diritto di veto in una fase in cui per la prima volta la sinistra arriva debole all'appuntamento del Quirinale ci si nasconde dietro il paravento dell'unità della maggioranza per dire un no che è tutto da motivare faccio un esempio concreto non è che il leader di Forza Italia è presentabile per tenere in piedi il governo Draghi ed è impresentabile il Quirinale a meno che non si voglia strizzare l'occhio a quel giornale il fiele quotidiano e ovviamente è il fatto quotidiano che ha aperto una campagna contro la candidatura del Cavaliere modi aggressivi e volgari per usare le parole di Luciano Diorante nei confronti del giornale di Travaglio perché tutti i cittadini che hanno più di 50 anni possono candidarsi e spetta ai parlamentari decidere chi votare chiude Minzolini in sintesi può essere pure auspicabile l'elezione di un presidente a larga maggioranza ma se ciò si rivelasse impossibile e si esserirasse ad un'elezione di misura come è successo nella maggior parte dei casi dal 48 ad oggi la scelta peggiore per il PD sarebbe un ricatto sulla scelta del nome del nuovo capo dello Stato accompagnato dalla minaccia della crisi di governo e delle urne anche perché chi si prendesse una tale responsabilità dopo aver predicato per mesi e mesi l'emergenza difficilmente sarebbe premiato dagli elettori ragione per cui l'avvertimento di letta conclude Minzolini con tutto il rispetto richiama alla mente una celeberrima espressione di Mao Tse Tung tigri di carta così il giornale ma a questo punto vediamo anche Salusti sul libro in prima pagina a proposito della petizione dice la sola idea di sì che Silvio Berlusconi scrive Salusti possa sostenuto da tutto il centrodestra ovviamente non solo altrimenti mancherebbero i numeri necessari giocarsi seriamente la partita del Quirinale deve far davvero paura se ieri con due mesi di anticipo sulla scadenza il fatto quotidiano ha lanciato la petizione Berlusconi al Quirinale no grazie la cosa è ovviamente legittima ma dà l'idea che il concentrodestra non sia libero di proporre il suo candidato Berlusconi o chi sarà se non gradito la banda di Travaglio Conte, Davigo e compagnia cantante che poi non è un'idea ma una certezza che scommetto prenderà corpo nelle prossime settimane con una campagna mediatica di odio e di fango sarebbe strano che non partisse anche qualche iniziativa giudiziaria quelle che viste fino ad ora sembreranno bazzecole il Quirinale scrive Salusti è roba loro della sinistra e di quella massa informe che sono i 5 stelle tutto il resto è indegno anche solo di pensare di avere voce in capitolo figuriamoci con un candidato proprio peggio mi sento su quel candidato fa di nome Silvio Berlusconi che dal 94 in poi è l'unico che questi signori li ha quasi sempre messi in riga quanto meno arginati che dovrà essere il candidato del centrodestra non possiamo lasciarlo chi dovrà essere il candidato del centrodestra non possiamo lasciarlo decidere a Travaglio né a Letta né a Conte né a nessun altro che non sia che non ne abbia titolo la scelta spetta unicamente a Matteo Salvini e Giorgio Milone oltre naturalmente a Silvio Berlusconi cioè gli unici che rappresentano gli italiani non di sinistra che ancora oggi sono secondo tutti i sondaggi la maggioranza degli elettori ecco qui mi permetto di confutare a Sallusti che non è che tutti gli italiani che non sono di centro-sinistra votino a destra penso che invece la grande maggioranza o non vota o comunque individua partiti che occupano uno spazio centrale e che non si sentono rappresentati da una parte e dall'altra ma ovviamente questa è una mia opinione e quindi conclude lanciamo qui oggi una petizione le modalità per partecipare le trovate qui sotto contro chi vuole rubarci il Quirinale contro chi pensa che Salvini Meloni e Berlusconi non abbiano la stessa dignità politica dei loro rivali contro chi getta veleni e menzogne nella campagna Quirinalizia questo tra l'altro Sallusti sul Libero chiudiamo con Cerasa che diciamo tocca la questione Quirinale in un'analisi di qual è la situazione all'interno della Lega e cosa scrive Cerasa i segnali sono tanti a volte bisogna mettersi lì con diligenza osservare i puntini senza troppa ideologia proviamo il sia a Mario Draghi il sia a Recovery Plan il sia al Super Green Pass i toni misurati sulla manovra la battaglia per abbassare le tasse il sia al trattato del Quirinale la fine della speculazione sui vaccini la domanda che gli osservatori pongono in modo un po' maldestro quando provano a ragionare sulle trasformazioni della Lega e se all'interno del partito guidato da Salvini riuscirà a prevalere quel pezzo di Lega che sogna di confinare il salvinismo in uno scantinato della storia non c'è dubbio che all'interno della Lega vi siano visioni diverse del mondo Giancarlo Giorgetti ministro dello sviluppo tende spesso a farle emergere alla luce del sole a farle emergere alla luce del sole ma ciò su cui si dovrebbe ragionare è se lo schema di gioco con cui si presenta oggi la Lega sia uno schema che Salvini subisce da leader carismatic commissariato o sia uno schema che Salvini invece accetta e che in una certa misura cerchi persino di alimentare con la logica di trasformare i volti più in vista della nuova Lega come Massimiliano Fedriga per esempio e come lo stesso Giancarlo Giorgetti negli interpreti di una linea che cambia è possibile anzi è quasi scontato che in alcune occasioni Salvini si senta scavalcato dalla sua stessa classe dirigente ma una leadership si giudica anche per i risultati che ottiene e la verità difficile da ammettere è che almeno finora il contributo dato dalla Lega di Salvini al governo Draghi è più che positivo e a nove mesi dalla scelta da parte della Lega di mettere i suoi voti al servizio dell'azione dell'ex governatore della BCE si può dire che la Lega estremista si presenta all'appuntamento con l'elezione del Presidente della Repubblica controllando un pezzo di Lega infinitamente più piccolo rispetto a quello controllato all'inizio di questa legislatura è possibile che tutto questo un giorno finirà e purtroppo le frequentazioni europee non permettono nulla di buono anche se la fuga del vertice europeo che avrebbe dovuto mettere insieme tutte le destre estreme del continente è una notizia positiva per questo pur per quanto non definitiva ma allo stato attuale si può dire che nella gestione finale della pandemia con alti e bassi e con splendide incoerenze rispetto ad alcune stupidaggini del passato il Lega di Salvini si è con regolarità schierata più dalla parte della responsabilità che dalla parte della politica e chiude così Cerasa la trasformazione della Lega grazie a un assetto tattico che vede Salvini giocare un po' arretrato rispetto agli altri giocatori come Federica e Giorgetti è difficile ma non impossibile e buona parte della nuova non impossibile stagione leghista passerà da una partita cruciale dalla capacità che avrà Salvini di trasformare una scelta naturale come quella di Draghi e Quirinale in una propria scelta anche per dare alla destra italiana la possibilità per la prima volta nella sua storia di votare in modo compatto per un Presidente della Repubblica in bocca al lupo e qui diciamo usa anche tutta questa vicenda Salvini per ribadire il suo concetto Cerasa che è Draghi che deve andare a Quirinale chiudiamo anche questo capitolo e passiamo a questo punto ai partiti per quanto riguarda la Lega possiamo stare tutto sul domani a cominciare con questa storia del gruppo parlamentare ce lo dice a pagina 5 Francesca De Benedetti Salvini perde anche la battaglia per unire sovranisti europei un mese fa il leader della Lega incalzato da Giorgetti esaltava il vertice di Varsavia con Le Pen Orban e Polacchi del PIS che però preferiscono rimanere con Meloni e lui deve fare retromarcia poi sulla Lega c'è la prima pagina del domani che è sempre in cerca di scoop è sempre in cerca sulla base di inchieste quindi non di condanne manco di primo grado gli affari sul Covid del fedelissimo di Giorgetti l'inchiesta Gianluca Pini ex deputato leghista ha incassato 4 milioni di euro vendendo mascherine ad Asle privati i PM indagano per corruzione e frode il ministro dello sviluppo era socio di Pini fino a pochi mesi fa ora ricorderete che ieri abbiamo letto i giornali in cui accuse simili venivano fatte alla Pivetti alla quale erano stati addirittura sequestrati 3 milioni e mezzo Ferrari non so che cosa e vi dicendo dopo di che è arrivato il GIP che ha detto che quel sequestro era del tutto illegittimo e comunque lo ha annullato per quanto riguarda quindi la Lega abbiamo messo veramente tutto questo lo prendiamo al domani per quanto riguarda i 5 Stelle prendiamo due cose dal Corriere della Sera a pagina 15 Movimento 5 Stelle corsa alle restituzioni chi non è in regola non potrà avere incarichi i bonifici degli eletti per il Movimento dopo mesi di arretrati Emanuele Buzzi che firma quest'articolo e ci dice chi sono quelli che insomma che dice che devono pagare qui ci stanno i voti e le cifre si parla di Maurizio cattoli 7500 però non so se sono quelli che marcano non ce ne può fregare meno però non danno i soldi e quindi sono stati invitati a darli e la Repubblica invece a pagina 15 ha un'intervista con il vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera Ricciardi che parla di varie cose ma in particolare del voto sul 2% dell'ultima scelta diciamo da politica politisienne del Movimento 5 Stelle siamo cresciuti ma i soldi del 2x1000 non ci cambieranno in un partito tradizionale queste scelte si fanno in una stanza da noi hanno votato in migliaia diciamo da voi l'hanno fatta in una stanza in certe volte queste scelte quando vengono prese dalle assemblee nazionali io ricordo quando stato il Partito Democratico magari c'erano anche qualche centinaia di persone in più di quelle che si sono espresse su un web con tutti i limiti che abbiamo già visto e conosciuto ma questo poi è quello che dice Ricciardi e poi dice ancora non rinneghiamo il passato i nostri valori sono la base del PNRR l'unico leader per noi è Conte questo lo devi spiegare soprattutto una buona parte dei Movimento 5 Stelle a cominciare da Di Maio che non pare proprio convintissimo di questo ma vabbè poi ce n'è anche per il Partito Democratico perché c'è il riformista a pagina 3 che con Michele Prospero parla a letta a letta attento la formula neolivista è fonte di sciagura l'emergenza repubblicana non è finita perché a destra non è il moderato Berlusconi a distribuire le carte ma ancora i sovranisti se il segretario del PD rivendica il comando per sé è meglio che rinunci subito alla suggestione perché nelle condizioni date non funzionerebbe questo scrive il riformista c'è anche da segnalare sul dubbio un'intervista a quello che è chiamato l'ultimo l'ultimo e vero giapponese del renzismo PD ed è Marcucci ed è non è un'intervista scusate è un ritratto di Rocco Vazzana che dice il senatore non perde occasione per attaccare letta imbarazzando pure base riformista ora insomma non ci vuole molto da quando base riformista si è un po' pecoronata diciamo sulle varie maggioranze che si sono create nel Partito Democratico non ci vuole molto per farla un po' mettere in difficoltà vabbè ma insomma questo è oh a questo punto visto che abbiamo parlato dei rapporti soprattutto per il Quarinale maggioranze larghe vi dicendo ma c'è una cosa spiziosa che mette il messaggero a pagina 8 da Treiu al Quirinale il nuovo bipolarismo sull'asse Meloniletta è il retroscena di Mario Agliello il segretario Demma la chermessa di Fratelli d'Italia sullo sfondo la sfida del Palazzo Chigi ad unire la strana coppia alla battaglia contro la legge elettorale col proporzionale questo è per quanto riguarda i partiti ma adesso vi dico che c'è anche un'intervista sulla stampa con la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi la troviamo a pagina 15 e andiamo a vedere subito che è l'intervista di riferimento di Italia Viva di oggi senza nulla togliere a quella su Marattine che era più specifica sul tema della riforma fiscale il titolo dell'intervista che fa Alessandro Di Matteo è Letta vuole il voto e Prodi è accecato da risentimento il segretario Demma punta a cambiare i gruppi in aula perché non li include e allora andiamo a vedere le domande che fa Alessandro Di Matteo la prima il Premier è preoccupato per le fibrillazioni della maggioranza sulla manovra domanda ieri ricordiamo che la delegazione di Italia Viva ha incontrato il Premier risponde Boschi non mi sembra Draghi sta lavando bene un anno fa andavamo a Palazzo Chigi a confrontarci con un conte palesemente non all'altezza e nel mezzo di una crisi con l'Italia in ginocchio per la pandemia oggi andiamo a Chigi e troviamo Draghi un Premier competente il miglior piano di vaccinazioni del mondo una ripresa economica straordinaria è passato un anno ma sembra un secolo domanda di Matteo Renzi è preoccupato per le sorti della giudatura Letta dice che se i partiti di governo si spaccano sul Quirinale si rischiano le elezioni il governo Draghi leggerà il voto per il Colle risponde Boschi spero di sì andare a votare serve a qualche partito andare avanti serve al paese ancora ma perché Letta dovrebbe voler andare a votare presto domanda a Boschi perché vuole cambiare gruppi parlamentari nei quali non incide per nulla allo stesso modo Conte Salvini e Meloni preferiscono il voto nel 2022 perché è più utile per i loro partiti noi invece siamo concentrati su ciò che serve l'Italia ancora di Matteo negli ultimi giorni sta crescendo il partito di quelli che chiedono a Draghi di restare a Palazzo Chigi e risponde Boschi quelli che oggi dicono Draghi per sempre sono gli stessi che ieri dicevano Conte a morte brava Boschi a ricordarlo noi abbiamo sempre sostenuto Draghi e per questo pensiamo che sia inutile il gioco di bruciare ogni giorno un candidato chissà come si elegge un presidente della Repubblica sa che le vere scelte si fanno alla fine parlarne adesso è solo un esercizio dialettico le scelte fino ad allora lasciamo che Mattarella e Draghi svolgano il loro lavoro bene come hanno sempre fatto ancora domanda di Matteo non le chiedo un nome per il Quirinario ovviamente non lo farebbe ma può indicare almeno un profilo e dice Boschi europeista trantista garantista uomo o donna delle istituzioni in linea con Ciampina militare a Mattarella ancora di Matteo più volte in queste settimane avete votato con il centrodestra mandando sotto la maggioranza Romano Porodi vi considera ormai già a destra risponde Boschi ho sempre avuto stima per Prodi tanto da votarlo nel 2013 come Presidente della Repubblica ma oggi faccio fatica a riconoscerlo a destra ci stanno Meloni e Salvini non Renzi il governo con la Lega lo ha fatto il momento 5 Stelle di Conte non noi se Prodi non vede la differenza significa che ha ciecato da resentimento perché nel 2015 Renzi gli ha preferito Mattarella per la corsa a Quirinari a distanza di 7 anni posso dire che ha fatto bene continuate ancora di Matteo domanda dice continuate a dire mai con il Movimento 5 Stelle ma il Movimento sta cambiando molto basta vedere il sì a 2 per 1000 non c'è spazio per sedersi al tavolo risponde la Boschi dicono sì a tutto ciò che hanno combattuto ora a loro va bene anche il finanziamento pubblico ai partiti vedere Di Maio applaudire Macron dopo essere stato a Regine Gialli stare accanto a Mattarella del quale voleva la messa in stato di accusa è il simbolo della loro ipocrisia non sono statisti sono opportunisti ma anche per questo sono destinati a sparire più velocemente del previsto ancora Di Matteo c'è un dato oggettivo a centro-sinistra per competere servono anche il 15% che i sondaggi attribuiscono nel Movimento 5 Stelle e dice giustamente la Boschi lei mi insegna che i sondaggi cambiano costantemente manca un anno e mezzo alle elezioni e se penso ai sondaggi di un anno e mezzo fa ricordo che la Lega va al 35% e Grillino lontano tutto cambia io penso che i 5 Stelle si scinderanno ancora e che Conte deve tornare nel 2022 e deve votare nel 2022 perché se si va al 2023 Di Maio lo fa fuori così non è stata poco esplicita ultima domanda ma col PD sembra ormai rottura e avete assicurato che non farete accordi con la destra sovranista andrete da soli alle prossime elezioni e risponderà Boschi non saremo mai con Salvini e Meloni che sono sovranisti ma non saremo nemmeno con Conte e Taverna che sono populisti il PD scelga se preferisce allearsi con Toninelli anziché con Bellanova vorrà dire che non ci sono più i compagni di una volta e ne prenderemo atto se il PD spose populisti noi lavoreremo per una casa comune liberale democratica e certamente riformista così Mariana Boschi sulla stampa e chiudiamo anche il capitolo politica se non dando però una notizia che non ha a che fare direttamente con la politica ma poi vedete che politica tanto lo è e c'è la notizia che ci dà libero a pagina 5 oddio torna il teletribuno Santoro Grillo parlante di Mentana scrive Francesco Specchia da gennaio il conduttore di servizio pubblico sarà in prima serata con il direttore del TG La7 nel ruolo di super opinionista proprio su quel canale che aveva abbandonato nel 2015 Enrico ha anticipato la notizia in rete sarà una cosa forte così libero fine passiamo alle questioni di giustizia su questo ancora Bergamo Speranza l'inchiesta e torniamo sul giornale ora io mi sono anche un po' stufato di dover difendere Speranza però continuo a farlo perché penso che questa è una roba abbastanza ridicola se non grave come quella che abbiamo già visto per altri esponenti magari del centro-destra e come l'ho fatto per quelli del centro-destra lo dico anche per quelli del centro-sinistra ora che Felice Manti faccia un articolo sul giornale che si intitola il PM ora scagiona Speranza due punti servono altre prove il distingo del procuratore sul mancato piano pandemico responsabilità solo dei tecnici cioè lo ha scagionato non si può continuare a fare una campagna a parte che già per il fatto che ci sia un'inchiesta ce lo siamo già detti mille volte ma qui addirittura è un'inchiesta che porta al sostanziale proscioglimento di Speranza e si continua a fare titoli facendo credere alle persone che Speranza stia ancora dentro questa vicenda ma è una cosa fuori dalla grazia di Dio ripeto se c'è qualcosa che la politica potrebbe fare rispetto a queste cose è una commissione di inchiesta parlamentare su quello che è accaduto lì non perché questo voglia dire che Speranza abbia delle responsabilità ma Arcuri Speranza i banchi e sedi a rotelle scusate i banchi a rotelle le mascherine i ventilatori e poi dicendo la politica può fare quello però fare titoli di giornale così francamente ma è una mia ovviamente opinione però su questo voglio segnalarvi il foglio dove c'è l'ottimo Antonucci Hermes Antonucci che nella pagina vediamo quale eccolo qua nella pagina 5 del certo del foglio mette in evidenza una cosa voi vi ricordate che ieri io vi ho letto alcune parti della intervista del procuratore capo dei PM di Bergamo sul processo su Corriera Sera e dice sì le esternazioni dei PM di Bergamo sono materia per il CSM dice giustamente Antonucci solo in un paese in cui la giustizia è impazzita in cui la magistratura ha sconfinato da tempo delle proprie attribuzioni può accadere che un procuratore della Repubblica rilasci interviste dei giornali su un'indagine portata avanti dal proprio ufficio e ancora in corso lasciandosi andare a giudizi anticipati che riguardano persino l'operato di un ministro del governo e senza che nessuno né dalla politica né dalle istituzioni competenti in primis con il suo superiore magistratura intervenga per far notare la grave anomalia ha perfettamente ragione Antonucci va bene chiudiamo anche su Speranza poi c'è il riformista che ci parla della riforma del CSM con Paolo Comi in prima pagina ANM le toghe anticorrenti battono magistratura democratica e ora per il CSM vince il sorteggio dice magistrati scrive Paolo Comi vogliono il sorteggio dei loro rappresentanti del CSM il risponso delle votazioni della scorsa settimana per il rinnovo della giunta dell'ANM di Palermo è clamoroso su 324 votanti 380 quelli che vanno diritto articolo 101 ha preso 103 voti 101 i voti andati a magistratura indipendente il gruppo di destra 98 ad area il gruppo progressista e 21 a unicoste l'ex gruppo di Luca Palamara articolo 101 come sanno i lettori del riformista è il gruppo nato dopo lo scoppio del Palamara Gate per contrastare il potere delle correnti e per le nomine di magistratura i due asset principali di articolo 101 sono il sorteggio appunto e la rotazione degli incarichi direttivi anche dalle parti di magistratura indipendente strizzano comunque l'occhio al sorteggio visto invece con il fumo degli occhi dagli altri gruppi associativi e dal presidente dell'ANM Giuseppe Santalucia la politica va però in direzione opposta al sorteggio decisa a lasciare tutto com'è la ministra della giustizia Marta Cartaglia si appresta stamani a presentare gli emendamenti del governo alla commissione giustizia della camera dove è incardinato il DDL riforma del CSM che prevede però un sistema di voto singolo trasferibile con la possibilità di preferenze cambiare perché nulla cambi questa è la denuncia che fa il riformista sul CSM il riformista va dato atto a pagina 2 si occupa anche di un altro tema che è quello delle carceri lo fa con Angela Stella che intervista il presidente delle camere penali Cagliazza che dice il PD succube dei 5 stelle ha cestinato la sua riforma del carcere si fa riferimento agli stati generali lanciati da Orlando però c'è un altro tema che è quello dell'ergastolo stativo di questo si occupa il dubbio in prima pagina ergastolo stativo così i partiti sfidano la corte costituzionale Sumit tra PD pentastellati dell'EU per concordare una legge che svuoti la sentenza su 4 bis sbagliata per colpa della CEDU vedremo è vero è un testo quello che è stato presentato è una bozza di testo unico che assolutamente almeno per quanto mi riguarda ma credo anche per molti altri di noi inaccettabile vedremo che cosa succederà nel dibattito parlamentare voglio segnalarvi per quanto riguarda un'altra questione che pure ci sta a cuore che è il fine vita al suicidio assistito chiamatelo come volete sulla stampa a pagina 12 eccolo qua fine vita mai dopo l'ennesimo rinvio la legge sul suicidio assistito sarà discussa in auto il 13 dicembre il 3 dicembre tra manovra natale e trattative sul curinare la norma è destinata a non vedere la luce è quello che scrive Annalisa Cuzzocrea sulla stampa a pagina 12 va bene poi il Corea Sera e altri giornalici dicono che Etian tornerà con la zia in Italia nei prossimi giorni mentre invece vi segnalo dalla Repubblica ci si occupa e non solo sulla Repubblica ma la Repubblica dedica due pagine la prendo da qui della relazione finale della commissione parlamentare sul caso Regeni l'Egitto responsabile della morte di Regeni va processato all'AIA dopo tre anni approvata la relazione della commissione parlamentare di inchiesta sull'uccisione appello al governo per una legge che impedisca agli agenti del Cairo di eludere la giustizia Giuliano Foschini sulla pagina 10 e poi a pagina 11 c'è la retroscena del corrispondente da Bruxelles Claudio Tito lo scontro di potere fra Al Sisi e il figlio dietro al muro di omertà del Cairo questo sul Regeni della commissione parlamentare poi se volete notizie su quello che accade in Ita ex all'Italia potete andare sul messaggero a pagina 15 nuovo contratto per Ita e Weiss in arrivo stipendi più alti del 5% saranno contenti dipendenti di Ita la Repubblica a pagina 21 ci parla della situazione difficile che sta avvenendo San Marco a Venezia San Marco si sgretola per i cantieri bloccati e il Mose in ritardo Gian Piero Visetti sulla Repubblica a pagina 21 da ultimo una notizia un po' però insomma noi nella sinistra parliamo anche notizie quasi surreali ma insomma che cosa succede che ci sarà un festival anti Sanremo e perché arriva l'anti Sanremo il festival è blasfemo faremo musica sacra l'ideatore nella città Ligure tre serie di canzoni cristiane e vabbè questo è quello che ci sarà il contro Sanremo come Grillo faceva il contro discorso del Presidente della Repubblica c'abbiamo chi fa il contro Sanremo politica internazionale Mosca vuole invadere l'Ucraina ce lo dicono vari giornali e in particolare la denuncia che fanno gli americani ce lo dice Corriera Sera pagina 16 l'accusa degli USA a Cremilino Mosca vuole invadere l'Ucraina il segretario di Stato Blinken ai piani già pronti Putin dice all'Occidente è venuto meno agli impegni vedremo se effettivamente accadrà ma l'ultima notizia di politica estera collega insieme purtroppo nella cosa peggiore USA e Polonia perché entrambe vogliono mettere mano in modo restrittivo alla legge sull'aborto la Repubblica pagina 10 ci parla dell'America no ovviamente non è pagina 10 ecco qua pagina 16 negli USA assalto finale all'aborto la Corte Suprema pronta a vietarlo tensioni tra manifestanti durante l'udienza sulla legittimità della legge restrittiva approvata nel Mississippi la maggioranza conservatrice dei giudici orientata a rovesciare la sentenza del 73 che apriva alla legalizzazione e diciamo il fatto che almeno in questo ma gli Stati Uniti rischino di trovarsi nelle stesse condizioni della Polonia la dice abbastanza lunga lo vediamo sulla stampa pagina 20 dove però invece ci sta un grande movimento che sta lottando sono parti un po' invertite Polonia guerra alle donne il Parlamento discute il diveto totale all'aborto punite anche con l'ergastolo il governo avrà accesso a tutti i dati personali dei cittadini e potrà perseguirli questo è Monica Perosino che ci scrive sulla stampa pagina 20 bene con questo possiamo chiudere la nostra segna stampa se volete ci vediamo domani alle 7 e mezza come di consueto buona giornata a tutti grazie 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 grazie